Eccoci qua dopo la partita, quelli che contro Carrozzeria Politini scontro al vertice, uno scontro al vertice sentito all'andata avete preso una sonora mazzata, oggi diciamo vi siete vendicati, però con un risultato un po' sofferto, 3-2, molto equilibrata la partita è stata decisa diciamo nel secondo tempo, anzi nel primo tempo con due gol vostri di vantaggio e poi nel secondo tempo avete sofferto un po' alla fine. Sì, ci siamo vendicati un po' dell'andata anche perché appena sono entrato in campo sono andato subito a guardare il portiere se era quello dell'andato oppure no, perché sinceramente è rimasto molto impresso la partita dell'andato, abbiamo fatto un sacco di tiri però il portiere ha parlato di tutto, questa sera invece fortunatamente ci è andata meglio siamo riusciti a segnare più di un gol più dell'avversario. Pochi gol oltretutto, pochi gol e pochi tiri rispetto alla prima partita che avete giocato contro di loro, oggi molto 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 giocata al centrocampo, quindi una partita sia equilibrata sì, però anche forse poco poco tecnica. Sì, diciamo che noi la sentiamo molto perché volevamo superarli, quindi loro volevano difendere il primo posto, quindi meno male le forze si sono incontrate al centrocampo, meno male comunque siamo riusciti lo stesso a segnare, comunque è stata una bella partita molto equilibrata. Adesso con questo risultato ottimo, adesso ormai siamo alla fine del girone, potete essere lanciati, naturalmente siete lanciati nelle fasi finali, cosa che aspettate da questo torneo? Beh, noi se siamo al completo credo che ce la possiamo giocare con tutti, non ho visto le squadre l'altro girone, però credo che comunque non ci dobbiamo spaventare gli altri, ma dobbiamo cercare di essere sempre tutti quanti, non essere sempre 5 o un uomo in meno come è capitato durante il campionato. Importante la continuità. Sì, certo, questo sì, dobbiamo essere tutti quanti presenti e cercare di vincere tutte le partite. Perfetto, ti ringraziamo, tutto dalla Serie Alfa Sport, grazie. Perfetto.